Il prodotto che ho deciso di recensire è questo, è il mineral booster della ELF, è una cipria opacizzante in colore adatta a tutti i tipi di pelle, soprattutto per chi non ama l'effetto lucido sul volto, ideale per fissare il trucco e per conferire all'incarnato un aspetto sano e naturale. Uno dei grandi vantaggi di questa cipria è in assoluto la sua composizione, gli ingredienti infatti sono tutti minerali, si riduce quindi al minimo il rischio di allergie ed inoltre è arricchita con vitamina A, B, C ed E. Si utilizza come una normalissima cipria, basterà prelevare un po' di prodotto dal tappo con un normale pennello per polveri, lo si applica in maniera molto delicata sul viso e fisserà il vostro fondotinta sia esso liquido o minerale e proverete un'immediata sensazione di freschezza. Reperire questa cipria è molto semplice, se acquisti dall'Italia basterà visitare il sito della ELF UK, visitare la sezione Minerals dove avrai la possibilità di acquistare la jar da 5 grammi, quella che vedi qui nelle mie mani, al prezzo di 3,96 euro, ma ci sarà anche la confezione Maxi da 17,8 grammi al prezzo di 5,65 euro. Spero di esserti stata utile con questa recensione e soprattutto mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi anche tu di questo prodotto. Ti aspetto, ciao! Ciao ragazze! No, non preoccupatevi, non mi sono rincretinita tutto ad un tratto. Prima parlavo come una promoter di media shopping, ma solo per scherzo, per giocare un po' su questo video e per cercare di darvi delle informazioni, diciamo, quanto più dettagliate possibili. Anche se vi dirò che non è molto semplice parlare in maniera così precisa, spesso la lingua mi si accartocciava e ho dovuto rifare i video un bel po' di volte. Io ho due paroline da amica, proprio voglio spendervele per questa cipria. Non ve la consiglio adesso da promoter, ma proprio da amica mi sento di consigliarvela. Se avete la possibilità di fare un ordine alla elf, non fatevela sfuggire, perché io sono sicura che ve ne innamorerete. È una cipria molto leggera, fa il suo lavoro, opacizza e attutisce l'effetto lucido del volto e fissa molto molto bene il trucco, quindi non fatevela scappare. Io ringrazio innanzitutto George April per questo concorso molto particolare, davvero idea molto originale, grazie. E come sempre grazie a voi dell'attenzione, spero di non avervi annoiata. Vi saluto, ciao!